...dipo di azioni qua, perché può darsi che chi lo fa ci porti in basso e continui con una testata, ok? Questa attenzione a ristabilire subito la distanza, ok? Il principio è quello di prima, gioco su di pressione e di uso. Quindi, come mi sento tirare, stabilisco subito la base attenzione, chiudo le mani già di loro, vedi che stacca pollici intanto, perché si batte le dita insieme, non fa male, non rompe le mani, disturba, disturba, sistema nervoso reagisce, lui perde contatto con la presa, ok? ...dipo, cuore, esterno, sull'aggiunzione delle dita, quindi il giochino in velocità, quando lui arriva forte, mi diventa questo. ...dipo di scopare, questo, viene, ok, da qui, ma l'azione semplice è questa qua, uno, due. ...dipo di scopare, questa qua, uno, due, 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 due. ...dipo di scopare, bene.